E ora pian piano iniziamo ad espanderci al nord Ah gente, sono Larus Con Europa Università di S4, Veritas e Fortitudo, con la Moscovia Allora, adesso dichiaro guerra a Yaroslav, perché Dei miei vassalli Yaroslav è un bel po' di claim, dannazione Comunque, dei miei vassalli, Vladimir Sozzal E anche Disney Novgorod hanno dei claim in quel territorio Quindi il mio piano è prendere dei territori appunto da Yaroslav Yaroslav è alleata con altre nazioni, ma questo non ci dovrebbe spaventare tantissimo Richiamo il tipo dalla Svezia Aumento il guadagno e il pagamento delle truppe E poi dopo dovremo essere pronti per dichiarare guerra Ok, allora Ci sono ovviamente tutti i loro alleati che entreranno nel conflitto Però non ci deve preoccupare troppo Allora, io prenderò Il mio obiettivo di guerra è prendere Romanov Metto Tuttavia qua hanno dei forti In tutte e tre le province Sarà piuttosto difficile Quindi prima cosa Sì Ah, posso integrare Nizni Novgorod Fantastico Per prima cosa Andrò Crisi nazionale Posso perdere un po' di stabilità Oppure Perdere un po' di reputazione Direi perdiamo un po' di reputazione Intanto Non è così grave Io preferisco andare subito a sud E distruggere le altre armate Dei russini E ok, ovviamente se tu hai dei vassalli a lungo termine Prendi dei benefici da questi vassalli Quindi Questo è anche un vantaggio da tenere in considerazione Ok, abbiamo sconfitto un'armata Di una tribù russa E adesso stanno arrivando le altre armate Diamo una mano ai nostri alleati Se è possibile Ce la dovrebbero fare, però Non si è mai sicuri Ok, ci abbiamo fatto Porca merda Dimmi te se sei riuscito a togliere L'alimentazione dello schermo Oddio Spero di aver messo in pausa È quello che spero di più Dannazione Ok, dove si collega? Qui? Ok, schermo Tutto a posto Tutto a posto Siamo ancora in linea Stacca, stacca Oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Sì, sì, sì Sì Qua abbiamo troppo armate Ci dobbiamo spostare Allora Abbiamo trovato una festa una E possiamo avere un figlio Con un claim Basso Però comunque Che è un buon re Noi abbiamo ancora un erede legale Quindi direi che ci sta Perdiamo un po' di prestige Però Vabbè È un buon erede Quello che prenderemo Prenderemo Io preferisco attaccare questi nemici In questa posizione Piani della reggenza Allora Prima vi devo un attimo la battaglia Come va avanti Ovviamente noi abbiamo tirato un buon dado Arriva i nostri alleati Perché abbiamo Siamo riusciti a prendere la città di Romanov Poi Spostiamoci a sud Perché ovviamente non voglio che mi prendano tutti i miei territori Ah Aiuto Alleati Alleati Ah ok Ce l'abbiamo fatta Fantastico Devo Dove vedere cosa fanno i miei alleati adesso Perché ovviamente non è che sono messo un gran che bene Qua mi stanno per prendere Elez E io mi sposto subito Ok Piani per la reggenza Possiamo disegnare la reggina Prende meno force limit E la reggina Può Supportare Guerre di alleanze E di riconquista Perché ovviamente non è detto che Durante il piano di reggenza Tutte le guerre vengano supportate Poi Vediamo Possiamo disegnare Un parente Che dà più tasse A meno più power E di solito Parte per le conquiste Poi Grande nobile Me lo costa la cavalleria Però comunque Per tutte le guerre Più o meno Le supporta Oppure un arcivesco Aumenta il morale dell'armate Ma diminuisce la tolleranza Per gli eretici Direi L'arcivesco È il migliore Forse Perché avere un buon morale Dell'armate È sempre Cosa da preferire Prendiamo l'armata Delez Mi hanno purtroppo Preso la città Poco prima Che io potesse arrivare Ma questo Non mi dovrebbe spaventare Perché comunque Basta poco E riesco a riprendere Tutta la provincia E stiamo battendo I nostri nemici Più o meno Tutti i fronti Poi Qua c'è una bella fortezza Dovremo fare attenzione Dovremo fare molta attenzione Perché le fortezze Sanno essere Piuttosto difficili Da essere Ad essere conquistate Quindi Un po' di attenzione Intanto A ribelli di Riazan Purtroppo E abbiamo anche preso I territori Nuovi Che distruggete Le varie armate Che stanno nella zona Ok Sono divise un po' Le mie armate Però Non è un gran che E abbiamo anche Stiamo stupendo Delle sconfitte In diverse zone Però pian piano Riusciremo a riprendere Il tutto Tutto quello che è nostro Ok Voglio fare una bella breccia Qui Che così posso Prendere la città Perché alla fine Ci sono pochi soldati Corruzione Sì Voglio togliere il problema Perché non voglio aumentare Tanto di inflazione Adesso stiamo avendo Un piccolo Diversi problemi E ci hanno ripreso Una città E qua abbiamo vinto Ok I riazzani hanno preso La città di Tula Purtroppo E non riesco Riprendere I cittadini Della sede Di Elez Ok Qua stiamo vincendo Ancora Mentre vincevo Sempre più battaglie Però comunque La situazione Sta diventando Un po' Incasinata A causa Dei diversi Avversari Che abbiamo Allora Preferisco Andare prima qui E distruggere Quest'armata Per poi dopo Spostarmi E prendere L'altra Armata I ribelli Se paghiamo Ovviamente Il tributo All'orda Che dobbiamo E qua ci attaccano Ancora Delle varie armate Speriamo di vincere Abbiamo poco morale Però E c'è morta anche Un leader militare Aia Quindi prendiamolo un altro Oh Questo qua è un comandante La cavalleria Fantastico Aspetta Guardate Sei Di shock Madono Sei di shock È tanto Ok Intanto Stiamo perdendo Un po' in giro Però vediamo Se possiamo fare Qualche pace Con qualcuno Niente Stiamo prendendo Worldscore positivo Però Bisogna fare attenzione A perdere La nostra città Che voglio Prendere appunto Qua non mi danno Una mano Ovviamente Mi alleati Datemi una mano Se lo perdo Ecco ho perso Bravi Bravissimi Complimenti E riprendetemi Tu La magari Ok S'è una situazione Piuttosto complessa Perché i miei Alleati Sono piuttosto Stupidi E qua Stanno arrivando Degli alleati Dei nostri nemici Quindi voglio Un attimo Affrontare Questi Ok Li abbiamo presi E vediamo Di distruggerli E se siamo In abbastanza In abbastanza In tanti Voglio riconquistare Poi dopo Togliere l'assedio Della città Di Romagnola Non so come si chiama La chiameremo Romagnola E poi Vediamo Direi Aumentevo la tecnologia Invece di aumentare L'idea Qui abbiamo vinto La battaglia Fantastico Aumentevo un attimo Il morale Prima di attaccare E Yaroslav Dov'è Yaroslav Oh Yaroslav No Non voglio una pace Subito Più che altro Gli altri alleati Sì Magari si può fare Una pace Però con Yaroslav No Ok spostiamoci E attacchiamo E qua Faccio uscire No Non possiamo fare Uscire dei Le guarnigioni Purtroppo Qua spero Di poter vincere La battaglia E abbiamo vinto Miracolosamente Ah Fantastico Ok adesso Siamo un po' più tranquilli Quindi riprendiamo La città di Tula Che è una cosa Che voglio fare Senza dubbio E ok La fortezza Ovviamente Un po' più difficile Da prendere Però Dovremmo portare Pazienza E qua abbiamo Quasi preso La città di Aperoca Sì Sì l'abbiamo presa Ora Vediamo se possiamo Fare Qualcosa con Novgorod Sense Slusa Qualcosa del genere Allora Allora Toclay Togliere alleanze Con Novgorod Uh sì Mi piace Mi piace Però non possiamo Ancora farlo No 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 Allora Mi ho quasi preso La città di Tula Di nuovo Evento Il nemico Sta prendendo Anche un po' D'inverno Perché Qua Diventa anche Un po' tosto Tutto questo punto di vista E qua abbiamo Quasi preso La città di Tula Di nuovo Quasi Manca poco Però Yaroslav Vuole fare una pace Ma al momento Non accetto Claim sui nostri rivali Va bene E abbiamo preso L'assedio di Tuna Tula Non è Tuna Non riesco a pronunciare Le città Ok Spostiamoci A togliere l'assedio Invece In quest'altra città Dateci una mano Please Please Una mano Che stupidi Che siete I miei alleati Non si muovono Sono Bene Ho messo a touch To this unit Però sai C'è un tuo alleato Che combatte In genere Dovresti dare una mano Ok Ora vediamo Se riusciamo a fare Una pace separata Con un po' di nazioni Direi Togliere Alleanze con Novgorod È la cosa migliore E poi dammi Un po' di soldi Che i soldi Sono sempre ben accetti Ovviamente Non posso fare War Potrei fare War Reparation Forse Oh si War Reparation Mi intriga di più Ok Ed eccovi Un alleato Che se ne va Dal conflitto Poi Pzovsk Qualcosa del genere Vuole ancora uscire Dal conflitto Ma faremo qualcosa A riguardo Tranquilli Pian piano Combineremo qualcosa Ok Poi No Non mi arrendo ancora Direi togliamo L'assedio Se possibile No Stanno già andando I miei alleati Quindi andiamo A togliere L'assedio In una mia città Che stanno già Prendendo Ok Lussemburg Ha annunciato Inghilterra Come suo rivale Non so quanto Mi possa interessare Però Lussemburg Forse È il sacro Ma l'imperatore Sì Appunto Allora C'era Questo Come il sacro Ma l'imperatore Qua Non facciamo uscire Nessuno Dai che tanto Riusciamo a vincere Lo stesso A nord Non sono riusciti A togliere l'assedio Purtroppo Però qua Ce l'abbiamo fatta Sono Alla fine Sì Hanno tolto l'assedio Cioè Hanno preso La città Vediamo un attimo Che cosa possono fare Ok Riattacchiamo Mentre io Rifiuto Qualsiasi trattato Di pace Per il momento Andare avanti Con le tecnologie Diplomatiche Non so quanto Bossa servire Perché poi dopo Dovrò fare La pace Dovrò spendere Punti diplomatici Per fare le paci Si lascio Un po' di truppe Qui Gli altri Che mi seguono Li mando Ad attaccare Questi altri nemici Ok E inizio A tenere Sotto assedio Queste due città Che comunque Sono necessarie Per il conflitto Fantastico Stiamo andando Piuttosto Bene È stata una guerra Difficile Alla fine Non è stata facilissima Però ce l'abbiamo fatta Mentre il nemico Adesso ha un morale Un po' più ridotto Perché sta perdendo Il conflitto Ed è finito Il matrimonio Con la Svezia Peccato Però Recuperremo Il tutto Allora Richiamiamo Il tipo Diplomatico E accettiamo Il matrimonio Della Svezia Qua siamo riusciti A fare una breccia Vediamo se Ci conviene Fare un assalto Se facciamo un assalto Intanto Va più che bene Uh È stato Un assalto Un po' Brutto Aia Abbiamo anche tolto Le fortificazioni Ah Fantastico Sono riusciti a distruggere Le fortificazioni Della zona Non esistono più Qua mi chiedo Un'altra pace E io Rifiuto Ah è stato Un bel assalto Però ci sta ogni tanto Un assalto Giusto per provare Yaroslav Non conviene Perché ci sono Ancora tante truppe E attendiamo Con calma Questo è Quasi per prendere La fortezza Che non è Un Una cosa facile Da fare Sovsk Mi chiede Una pace bianca Io rifiuto E devo fare Proprio Pace Separate Allora Proprio Pace bianca Pura No io voglio Un po' di soldi Almeno un po' di soldi Me li devi dare Giusto perché Sei entrato Ah possiamo anche Fare una cosa Ah no Io sto offrendo Un trattato Ah sono stupido Sto per offrire una pace Sono molto molto Stupido Aspetta Ecco no Qua non conviene Aspettiamo E ok 100 su 100 Allora Vediamo di fare Pace bianche Un po' con tutti O pace Comunque separate Qua Faccio una pace bianca E così faccio Incazzare gli alleati Qua Un'altra pace bianca Se possibile Così faccio Incazzare anche gli alleati Ma loro non Si arrendono E qua Facciamo un paio di cose Allora Preferirei dare Questi territori A Nizni Novgorod Entrambi Perché Nizni Novgorod Sarà un territorio Che comunque Riprenderò subito E cioè Integrerò subito Nel mio dominio E quindi preferisco Dare tutto A Nizni Novgorod Yeah E quindi come se Me lo tenessi per me Poi dammi tutti i soldi Che hai va E così stiamo tranquilli Give up claim Ma Questo è piuttosto inutile Vabbè Oh che bello Andiamo avanti Con le tecnologie diplomatiche Naturalmente E Nizni Novgorod Si è piuttosto in spanza E ora Farà dei claim Ovviamente Dei core Però possiamo anche Integrarla Il liberty desire Forse è adesso Un po' aumentato Per Nizni Novgorod Naturalmente Perché sono diventati Più potenti Però Pian piano Ritorneremo Alla nostra posizione Di predominio Allora Stiamo diventando Piuttosto grandi Ah È finito il matrimonio Con la Svezia Tristess Allora Mosca Andiamo a Mosca Nostra capitale E qua hanno anche un bel forte Questione di diritti Riazan Allora Abbiamo un claim Su una provincia Di un nostro Vassallo Molto ricca E produttiva Allora Possiamo chiedere Alla nostra Vassallo Di darci quella provincia Oppure Lasciarla Così Direi Lasciamo la provincia Tutto così Com'è Va più che bene Perché io non voglio Prendere in quel territorio Intanto la prenderò Quando Farò l'integrazione E non dovrebbe mancare Troppo tempo Ancora 4 anni Posso integrare I territori Qua Potrei annettere Però do ancora Un attimo Aspettare Tanto Mentevole relazioni E quando la situazione Sarà stabile Posso anche Integrare Nizni Novgorod Tver ci mette Un po' di tempo Ah posso anche Integrare Tver Adesso Quindi Aspettiamo un attimo Prima di integrare Anche Tver Per Tver Io preferisco Prendere Ancora i territori Che comunque Vuole Per esempio Rzev È un Core Di Tver Quindi voglio Prima prendere Questo provincio A Novgorod Poi una volta Che siamo tutti Vassalli Staccati Questo ci può aiutare Per il conflitto Perché avremo Ovviamente più truppe E quindi Vediamo di rendere La situazione Così com'è Non voglio cambiare Stiamo così tranquilli Non cambia nulla Intanto Al mondo cosa sta succedendo Milano è occupato Da Parma Tradizionale Lo stato La chiesa E E lo stato E la chiesa Non Non capita Nulla E intanto Chipchak Non è che mi vuole Troppo bene Perché? Un po' di Aggressive Expansion Sì Però Va più che bene Dai Chipchak Ha altro A cui pensare Probabilmente Qua ci sono Un po' 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 È stato un casino C'era un bell'impero Lord Adoro Ed è collassata Qua ci sono degli afghani Dei persiani Dei persiani Dei persiani Dei georgiani Degli arzerbaergiani Degli armeni Non ci sono? Sì C'è anche Caracoliu Almeno Che non è proprio Armena Però C'è anche L'Armenia Oh Finalmente Uscita L'Armenia Fantastico Che carina L'Armenia Io ho sempre Voluto fare una partita Su Europa Nel 64 Con l'Armenia Peccato Che nel periodo Di Tutta la data Del gioco Non esiste Una nazione Armena Può solo uscire Attraverso I ribellioni Come la Grecia Può uscire Attraverso I ribellioni Però Di per sé Non esiste Nel gioco Non c'è una data Di partenza In cui puoi trovare L'Armenia O la Grecia Però ci sono anche Le idee greche Le idee armene Se non sbaglio Quelle greche Di sicuro Poi Vediamo un po' Con i nostri vassalli La situazione è un po' Meh Insomma Potrebbe migliorare E dobbiamo fare Nuove armate Senza dubbio Noi soldati Ci stanno Tanto Perché Adesso devo arrivare A un buon livello Sotto questo punto di vista Che così almeno I vassalli Mi rispettano un po' Di più Perché ho una potenza Più grande Per le armate Ok Tutti assieme Mi rispettate Un po' Di più Adesso Ah si Tributo al Khan Paghiamo Come sempre Non è che mi rispettano tantissimo Sì perché ovviamente In Novgorod Adesso è in tabella grande E quindi Il rispetto nei miei confronti È un po' diminuito Purtroppo Ah il telefono si è spento Quindi non so quando Finisce il timer Più o meno Adesso Credo Non lo so Spero Comunque per questa puntata è tutto Votate e commentate Ci sentiamo alla prossima Ciao ciao